Il punto di attenzione tra il sud e la parte nord del Marmoto Adesso potete vedere che c'è solo la parte del nord L'acqua è stata mobilizzata Qua ormai abbiamo perso una bella parte del lago Perché tutta l'area è riuscita Vedete questa temperatura molto alta L'umidificazione è molto alta Quindi l'umidità e l'acqua si stanno evaporando tantissimo